Il Ministero dello Sviluppo Economico di trovare soluzioni per il settore dei call center, che è un settore industriale che dà occupazione in Italia a 80.000 famiglie e 20.000 sono soltanto in Sicilia. Noi siamo la più grande realtà industriale a Palermo con 6.000 lavoratori, lavoratori dipendenti e lavoratori a progetto, con stipendi da fame. E noi non vi votiamo, e noi non vi votiamo, e noi non vi votiamo. Rispondiamo in italiano, se risponde un romeno il lavoro viene meno. Se ne va, il lavoro da Palermo se ne va. Se ne va, se ne va, il lavoro da Palermo se ne va. Se ne va, se ne va, se ne va, il lavoro da Palermo se ne va. Se ne va, se ne va, se ne va, il lavoro da Palermo se ne va. Da Palermo vi chiediamo a gran voce, Renzi sveglia! Non potete chiedere aiuto a noi soltanto quando avete bisogno del voto. Rispondiamo in italiano, se risponde un romeno il lavoro. Il lavoro viene meno, da Palermo a Milano di scopar, se ne va, il lavoro da Palermo se ne va. Se ne va, se ne va, il lavoro da Palermo se ne va.